Ci troviamo di fronte all'abitazione del paterna dell'imprenditore Mimmo Giovinazzo, ecco quello che rimane del portone della casa del paterna appunto di Mimmo Giovinazzo, ricordiamolo, è titolare del rinomato centro commerciale La Cometa Torrenova, una delle strutture più importanti della città con oltre 100 dipendenti. La casa è di proprietà del papà di Mimmo, si chiama appunto Francesco, ma la notizia anche più importante che è successa proprio questa mattina sono le dimissioni da presidente della squadra di calcio della Taurianovese e del figlio Francesco che dopo questa decisione ha deciso di dimettersi dalle cariche elettive dello sport della nostra cittadina. La Taurianovese è in questo momento militare nel campionato di eccellenza, la famiglia Giovinazzo è da molti anni che regge le sorti della squadra, questo portone bruciato, questo attentato alla famiglia hanno deciso di lasciare il mondo del calcio.